Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessandro, oggi parleremo di questo quadricottero, lo Skytech TK110W, poi provo di volo e considerazioni finali. Questa è la confezione del quadricottero, allora inizio col dirvi che si può trovare in due configurazioni, quella completa con il proprio radiocomando e quella che sarebbe poi questa che adesso andremo a vedere senza radiocomando. Il costo è veramente basso, 27 euro questo senza radiocomando, con qualche euro in più prenderete anche con il radiocomando, due le colorazioni, nero con la scocca rossa, mentre l'altra colorazione è tutto nera. Come vedete questo è il modello che si pilota con l'app, braccia richiudibili, cam, ma andiamo a vedere il contenuto della confezione. All'interno della confezione troviamo il suo manuale di istruzione d'uso con riportato all'inizio i QR code per poter scaricare l'app, un sacchetto contenente 4 paraeliche, un sacchetto contenente 4 eliche di ricambio con il proprio cacciavitino, il caricabatterie USB, una batteria, una cella da 850 mAh che garantisce, stando a quello che si è letto, circa 8 minuti di volo, io l'ho testato nelle varie modalità e la durata del volo è stata di 9 minuti e 15 secondi. E questo è il quadricottero, questo è il quadricottero completamente chiuso con le braccia richiuse, guardate il paragone con la mia mano, io non ho una mano tanto grande, richiuso è veramente piccolo, ha anche un proprio carrellino di atterraggio, andiamo a vedere come funziona, questo è il carrellino di atterraggio che si apre, in questo modo, poi abbiamo sotto 4 pulsantini che serviranno per aprire le braccia, quindi premendo il pulsantino, apriamo il braccio, rilasciamo il pulsantino e il braccio è bloccato, così per gli altri 3. Ragazzi, questo è il quadricottero con le braccia aperte, guardate che bello, design veramente bello, il materiale è plastica, però è una plastica abbastanza morbida, quindi dovrebbe attutire bene gli urti, considerando che io lo farò volare senza pareliche, ma montando i pareliche sarete coperti anche per le eliche. Quattro le eliche, guardate un materiale veramente bello, l'avevamo visto se non sbaglio sull'S-Series S30, queste eliche particolari che si frettono ma non si piegano e non si rompono, quindi molto resistente anche queste agli urti. Sopra troviamo il pulsante di accensione on-off con LED blu, qui frontalmente troviamo la cam che è una cam 720p, sotto troviamo l'antenna di trasmissione del segnale video wifi e il vano della batteria. Sotto abbiamo queste trasparenze che fanno vedere gli ingranaggi dei motori, abbiamo quattro motori coreless o brushed come volete chiamarli, quindi motori a spazzola e quattro LED di colorazione. Guardate, la colorazione è veramente bella vista di notte, anche il pulsante è colorato di azzurro. Ora inseriamo la batteria, allora una volta inserita la batteria siamo pronti per accendere il drone ma prima diamo un'occhiata veloce alla propria app. Ora accendiamo il quadricottero, tenendo schiacciato il pulsante, ora andiamo a rilevare la rete wifi, la rete sarà questa sky wifi 6dbb, quindi connettiamo. Andiamo ad aprire l'app, wifi go, questa è come si presenta l'app, quindi andremo sul pulsante start, app control, come vedete comparsi immediatamente il segnale video, ora vedete la latenza è veramente pochissima, adesso lo testeremo in volo, le caratteristiche principali dell'app sono quelle che vediamo sempre, però in basso a sinistra troviamo questo cerchietto crociato che serve per la calibrazione, quindi noi andremo a fare la calibrazione, i led non li vedete ma lampeggiano fino a quando rimarranno fissi, il drone è pronto a volare, poi abbiamo questo sotto, questo cerchietto con il quale abbiamo fatto la calibrazione, che vi consentirà di pilotare tenendo schiacciato dal lato destro dello schermo il drone con il sensor del telefono, quindi disattiviamo, questo sotto posto al centro, questa specie di bussola sarà il Edels Mod, questa è la possibilità invece di passare da modalità 2 di pilotaggio a modalità 1, cioè con il gas a destra come vedete, passiamo a 2, la possibilità di volare disegnando il percorso, ritorniamo indietro, centralmente troviamo l'accensione delle eliche, lo spegnimento delle eliche oppure il decollo atterraggio automatico, sopra il tasto per i flip, queste due palline servono per aumentare o diminuire la velocità del drone, possibilità di registrare in VGA oppure 720p, in alto a sinistra scattare le foto e fare video. Ora andiamo a trovare questo decollo automatico e vediamo come si comporta in volo. Come vedete il quadricottero è molto semplice, molto stabile, molto bello, guardatelo in volo, molto stabile. Ora lo facciamo a zero e scattiamo qualche foto per vedere la qualità dell'immagine. Adesso proviamo a fare un video e andiamo. L'immagine sembra buona. Un po' il rotore del gas quando lo facciamo girare sul proprio 360 gradi va un po' a scatti, però diciamo che tutto sommato si comporta bene. Ora lo facciamo abbassare. Proviamo l'atterraggio automatico. Quindi l'atterraggio automatico funziona. Ora proveremo il decollo manuale. Come vedete proviamo a accendere i motori e spegnere i motori direttamente da qui. Motori spenti. Motori accesi. Decollo manuale. Eccolo qui. Allora, intanto proviamo il pilotaggio con il g-sensor del telefono. Attiviamo. Tenendo premuto. Guardate. Sinistra. Ok. Disattiviamo. Ora invece faremo decollare il quadricottero in modalità automatica e poi proveremo i flip. Decollo. Flip in avanti. Provo un altro flip. Provo un altro flip. Indietro. Ora proviamo un flip indietro. Ancora. Spettacolare. Ora proviamo la navigazione con la traccia. Quindi attiviamo. Avanti e indietro. Vediamo cosa fa. Lui va. E torna. Quindi anche questo funziona. Disattiviamo. Proviamolo. In velocità 2. Decollo automatico. Ragazzi di questo come sempre trovate i link in descrizione. Con la possibilità di acquisto con un bel coupon di sconto. Comunque si comporta davvero bene questo quadricottero. Veramente reattivo. Anche con la propria app si pilota veramente bene. Guardate. E ora atterraggio automatico. Batteria è quasi scarica. Quindi andiamo ad atterraggio. Quadricottero carino. Molto bello. Funzionale. Tanti accessori. Solo 27 euro ricordo per questo quadricottero. Io lo consiglio. Funziona bene. Ripeto. 27 euro compriamo questo quadricottero. Che ha un bel design. Senza radiocomando. Con qualche euro in più prenderemo anche radiocomando. Io ho preso questo perché volevo testare come si pilotava con la sua app. Molto buona diciamo la sua performance. Quindi ve lo consiglio. Drone promosso. Noi ci vediamo ai prossimi video. E come sempre volate e vanno volate in sicurezza. Ciao da Alessandro. Ciao da Alessandro.